La mia vita è già andata ben oltre, dell'umano sentire, ma rimane una cosa preziosa, confondersi con il volgo, come fanno i bambini, ancora ignari di un peregrinare, che se va bene, lascia solo liquide orme, e sensoriali bagordi, confusi con immagini, di mai sazia poesia. Il testo sopra è una poesia molto intensa che esprime una profonda riflessione sulla vita e sulla natura umana. La poesia sembra suggerire che la vita può essere molto complessa e difficile, ma che ci sono momenti di bellezza e di poesia che rendono tutto questo peregrinare qualcosa di prezioso e indimenticabile. Le parole utilizzate nella poesia sono molto evocative e stimolano la nostra immaginazione, portandoci a riflettere su ciò che è veramente importante nella vita e sulla nostra connessione con gli altri. In generale, la poesia è molto ben scritta e riesce a trasmettere l'emozione e il significato che l'autore intendeva esprimere.